Oggi è il mio giorno fortunato Semino ragazzi, semino Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi reazione alle vostre lip e noi partiamo subito E quindi partiamo subito da Greg, questo dynamite camperato Però mi sembra che bene o male se la sia cavata, ok Ma la clip non finisce qua, torna in vita anche il suo compagno E' anche vero che insomma quello là sopra 10 power up, quell'ambra ne ho 8 Situazione un po' critica, ma lui tranquillo, è spensierato, fa i devasti E rimane ad affrontare, ecco, 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 i famosi 10 power up Ovvero quest'altra ambra Ma in realtà nel chilling deve affrontare anche Edgar Attenzione, situazione che potrebbe essere molto critica Bellissimo bombone di prefire e vince Prossima clip, abbiamo Meteor che deve prendere una mega cassa dal passo Possiamo sentire dei rumori E... Sì 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 Oddio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oggi è il mio giorno fortunato! Oggi è il mio giorno fortunato, ragazzi No, 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 io non ci credo Sì, in effetti Cioè, già sì, 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 è... No, vabbè, così? No, vabbè A casissimo Nel film Prossima clip, scontro finale Allora, siamo nelle 2v2 E... beh, per ora diciamo che la tara è lì, tranquilla, spensierata, nel chilling E la clip è proprio di quella tara Quindi probabilmente il Bo andrà giù Non so perché ho soppresentimento Poi arriva la tara, zitta, zitta, che farà il colpaccio Io penso che andrà così Ma vediamo No, invece no Ha anticipato Ah no, l'ha fatto... Vabbè, grazie anche alle bombette di Bo Ha aspettato il momento giusto E hanno vinto Quindi ci sta Ho il microfono troppo vicino Non posso gesticolare Prossima clip Abbiamo Armir Acidi Che non vediamo dov'è Ah no, ma Armir Acidi è il nemico È l'Iris Allora credo... ma... Sì, vediamo Quando parla clip del nemico Ah beh, sì, sì, in effetti era... Un bel go Ma analizziamo meglio Arriva il nemico Bombetta che va a schiattarsi sul corvo E la palla entra Non so se sentite Deve invocare me Ah, così mi invoca praticamente Clicca a caso sui brawler che non ha E mi invoca È il metodo giusto Sì, diciamo che non si sente nulla Però mi ha invocato Tappa Prima ovviamente I saltelli ci sono E poi prendere una moneta Maggi può inchiarsi E chiamare il corazzo Allora aspettate Perché non mi... Ecco Io in questo caso Non ho un moneta Però mi prendo Una bottiglia Per favore Per favore Ha preso una bottiglia Però È invocato me Finisce così Prossima clip Abbiamo Cicciobar Che deve affrontare così Questo Enza Sono appiccicati l'uno con l'altro Alla velocità della luce Attenzione 56 di vita 279 È il caos più incredibile Non c'è Prossima clip Abbiamo Davi Ah Mega cassa del pass Con un 7 È in effetti È così che funziona I giorni d'oggi Se non esce un 7 Non va bene C'è un gadget E poi abbiamo anche Un bel Leon Ma poi sempre Leon C'è Energetic Prossima clip Abbiamo Gabri Allora Cassettina gratuita Della soglia 51 Del pass Vediamo 7 skip Subito Raga Picciuro Vediamo Paurissima No gadget Che scanna E poi Il corvo però c'è Ancora Ma 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 Si suona male Arriva anche L'altra Attenzione Un'altra Ancora Uno su uno Giù Tattichi Tattichi Tocchi Alla fine Riescono a difendere Al meglio Esattamente Prossima clip Lui sta tappando Abbiamo Anthony Andato a tappare Tante volte Sullù Probabilità 0.01 Si trovò Leggendario Con 0.01 Percento Di probabilità È assolutamente Il titolo Del video Oh Abbiamo un 2 Con skip Minoso Oh Prossima clip Siamo con Elia King Che deve affrontare Destroyer Questa tara Per ora Direi che ci siamo È messo bene Attenzione Che qua è molto critica La questione Usa il gadget Ha fatto benissimo Ne entrambe le parti Basta proprio poco Riusa il gadget Ha vinto però Ha vinto Si Eh si che ha vinto Ma riguardiamo Questa giocata Perché lui Astuto qual è Appunto qua Ho usato il gadget Io non ce l'ho Pensato Dove a mente 15 g Prossima clip Mega gas Stellare A 1500 punti stellari 7 Vediamo un po' Vai Carl Quindi siamo un po' Bassettini di coppe Poi un bel Spike Beh Non è male Quante coppe Beh 1574 Non è male per niente Prossima clip Abbiamo DMX Col bombardino Contro questo mortis Ecco Apparentemente Situazione un po' Critica Perché il mortis Esattamente può pusharle In questo modo Ma lui tranquillo No qual mortis Non deve tornare No 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 Si si No si no si no Non lo so Infatti vince il bombardino Prossima clip Abbiamo GX Andrea Allora Questo qua è l'evento Dove c'è il Il brawler boostato Diciamo così La vita è quello che è Si lascia ittare Giustamente di solito Così che si fa su questa modalità Rimane con 2528 di vita Ma attenzione Rimane con 8 di vita In teoria dovrebbe vincere con 8 Beh diciamo che 8 di vita Bella bottanza di culo Voglio un nuovo brawler Che se no mi arrabbio Eh raga No bro Prossima clip Abbiamo Pippo Baudo Che Vado che lag Sei schifo 238 Oh Schifppettino Oh violer Si Si è mino Ragazzi Si è mino No No Scusate Ho visto male Sono un po' deluso Eh Prossima clip Così Mi sa che sto bug Lo provai a fare Ma non mi riuscì E insomma Qua c'è un po' di teleporting E magicamente Si trovano entrambi Uno l'ha schifppata Uno l'ha schifppata Prossima clip Vediamo 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 Due skip lumineggenti Lumineggenti Gadget Faccio un altro Va di io Leone 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 E chiudono così poi Prossima clip Siamo su knockout Allora Gixx il primo MZ fa la prima kill Fa la seconda Fai anche la terza E gg Ha fatto tutto lui Prossima clip Abbiamo Luan Luan Agro dell'altra volta Ma l'ho già visto Sempre quella O è qualcos'altro D'ogni modo Cassa gratuita Del brawl pass I soldi Saltellini Iscritta Apri A go go Sei skip Se trovo un leggendario È quello dell'altra volta Per forza Vediamo Vabbè a parte che sia un leggendario Comunque Ah no è Edgar Vabbè lui ragazzi È Assurdo Non ho mai visto un box opening Di Edgar Gigi Luanao Tutti l'hanno preso gratis Ma lui no Prossima clip Abbiamo Tommy con Stu Ha già la ultis Stava solo aspettando questo lui Ma riguardiamolo Perché Cioè Inaspettatamente Lui tira Li skip Va tutti e tre E va a fare gol Oh mio dio Oh mio dio Prossima clip È un 8 ragazzi Un 8 Cioè C'è Tre skip luminosi Ecco Gadget e Star Power Saranno Cioè abilità stellare Fisso Chiaro È Classico Ovvio Scammato Baa Prossima clip Allora Siamo su ricercati 14 a 21 Per il momento Stiamo perdendo 14 a 25 Attenzione Arriverà probabilmente Il colpaccio della vita Tre secondi Dalla fine Il mortis Fai i devasti Tutte due fai i devasti Alla fine vincono 27 a 25 Così Prossima clip Abbiamo l'ori 1500 coppe E abbiamo una cassa gratuita Del pass Sta caricando Diciamo che La connessione Non è proprio Dalla sua parte Non lo è per niente Ah beh Toglie Potremmo vedere Forse qua Degli switch Tattici E Vabbè ragazzi La connessione Sappiamo tutti Essere un problema Globale Questa cassa Quanto pare Non la vedremo mai A o Togliamo Il wifi Ecco Eh Togliamo tutto Rimettiamo tutto Perfetto Connessione interrotta La cassa L'avrà già aperta E magari avremo anche Lo schippettino rosso Oh no Era ancora lì Che scam Speravo di vedere Lo schippettino rosso Con un leggete Però c'è un set C'è un set Chiaramente Il set L'ha trovato solo Per quello che è successo Beh abbiamo un jackie Che comunque ok Beh abbiamo un Mr. P Però insomma dai Diciamo che Ci sta Ci sta Ma che sta facendo Ah E raga Io direi che per oggi Possa essere tutto Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Come sempre Se volete inviarmi una clip Giù nella descrizione Trovate il modulo Per il resto Un bel like Iscrizione Camparellina Noi come sempre Ci piacchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima Ciao